era divertente non vedevo un film da secoli davvero da quando ero piccola cosa no sono sono così impegnata sai non ho tanto tempo sei impegnata ho degli orari davvero molto rigidi le mie giornate sono pianificate la mattina mi alzo faccio colazione matematica lezione di latino pranzo lezione di tennis lezione di danza anche tutte e due volte francese pianoforte e quindi vado a cena e dopo cena sto con la mia famiglia e poi mi metto in pari con le letture sembra una strada per il successo senza dubbio ho fatto domanda in tanti college redcliffe sarah lawrence sono quelli che vogliamo vogliamo chi come hai detto sono quelli che vogliamo a mamma e papà si decide tutto insieme tutto no non tutto ma le cose importanti sì e tutto il lo puoi decidere per conto tuo non essere insolente scusa sto cercando di capire che fai per svagarti che vuoi dire insomma non lo so con tutto quello che devi fare no che cosa fai per te te l'ho appena detto non lo so è sorprendente per me cosa immaginavo che tu fossi non so più più cosa più libera cosa libera ma sono libera non sembrerebbe invece lo sono voglio farti vedere